La storia delle terracotte di cui vogliamo parlarvi inizia con la cava o le cave se così vogliamo dire che avete, che state vedendo, che avete appena visto. Allora la collinetta che è di fronte a noi era il luogo ed è il luogo in cui si estrae il galestro dal quale poi viene realizzato il manufatto di terracotta. Allora c'è un boschetto, perché? Il boschetto era la zona da dove veniva estratta prima la cava e la terra che oramai era già stata tolta è rimasta stoccata qui sulla destra e sulla sinistra ed è l'argilla che noi scaviamo e utilizziamo poi per la produzione.